Un particolare tipo di alberi ad asse non rettilineo è l'albero a gomiti, tipico dei motori endotermici. L'albero converte il moto lineare alternato del pistone in moto rotatorio, da trasmettere attraverso la trasmissione di potenza. Il meccanismo è di tipo biella-manovella. La geometria dell'albero è tale da generare un output di potenza approssimativamente costante. Il materiale dell'albero può essere Ghisa. Ghisa malleabile. Ghisa sfeoridale. Acciaio fuso. Acciaio forgiato. Acciaio da bilet. Titanio. Osservazioni, gli alberi fusi sono più economici, ma più fragili e suscettibili di rottura. Inoltre, sono generalmente più leggeri di quelli forgiati. È possibile applicare trattamenti termici come la niturazione per migliorare il comportamento ad usura.